Il centro antiviolenze dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Noi abbiamo costruito dal 2008 un centro di riferimento per tutte le vittime di violenza. È stato un lavoro duro, difficile, perché questo è uno dei reati più orribili che si possa immaginare, ma siamo riusciti a coordinare le nostre ostetriche. L'ostetrica, ricordo, è la dottoressa che si rivolge proprio all'empowerment della donna, che è fatta per aiutare le donne nei momenti difficili. Alle nostre specializzande della nostra università abbiamo costituito un gruppo coeso, abbiamo fatto una formazione e oggi possiamo dare un servizio immediato di aiuto, io credo notevole. Il nostro servizio immediato di aiuto è dato soltanto da componente femminile, questo è un aspetto fondamentale, e ha la possibilità di usufruire di tutte le strutture che sono qui presenti. Io dico in particolare l'infettivologia, c'è la possibilità di prendere delle malattie sessualmente trasmesse, e la psicologia clinica, che possono fare un primo intervento. Quindi noi ginecologi, noi ginecologhe, io non entro ovviamente direttamente in queste situazioni, abbiamo creato questo gruppo che ora si è anche strutturato e che discute di ogni caso successivamente, in modo da vedere dove possiamo ulteriormente migliorare. Credo che sia qualcosa di molto importante per la città di Verona, per la nostra università e per la nostra azienda. L'aspetto poi fondamentale è quello di lavorare e collaborare con la medicina legale, di cui vi dirà adesso brevemente l'anima in parte del nostro centro, che è la dottoressa Del Valzo.